Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto dal titolo vi farò vedere la nuova proprietà ovvero il nuovo garage da 2.700.000 dollari che arriverà nel 2023 su GTA Online infatti molti di voi me lo stavano chiedendo negli ultimi giorni semplicemente ragazzi questo garage è presente ma solo nei file di gioco e Rockstar l'ha inserito come drip feed quindi lo metteranno negli aggiornamenti settimanali però hanno scritto nel loro post ufficiale sul Newswire dal 2023 in poi quindi sarà per il nuovo anno speriamo non esca a luglio però comunque come al solito prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale ed attivate le notifiche perché come vedete questi contenuti li trovate solo sul canale di GTA TV ragazzi appena esce qualcosa ve lo porto subito insomma cerco di organizzarmi al meglio con i miei impegni che sono tantissimi per appunto fare i video come avete visto sono uscite tutte quante le guide sul DLC andatevele a recuperare se le avete perse e quindi ragazzi mi raccomando supportatemi lasciando like ma soprattutto iscrivendo e fare insomma qualsiasi cosa su GTA Online senza perdere tempo come vedete questi screenshot ovviamente provengono dai file di gioco sono stati retweetati anche da Testfans 2 quindi non sono mod o altro semplicemente roba nei file di gioco è stata caricata sul PC come vedete il prezzo già lo sapevamo 2.740.000 dollari questa qui è la schermata di base quindi per comprare questo garage salvo eventuali modifiche che farà Last Minute Rockstar ma diciamo che è abbastanza improbabile per comprarlo vi basterà andare sul sito degli appartamenti e troverete questa specie di garage custom da 50 posti come vedete 2.740.000 dollari sarà praticamente uno dei garage in centro città come vedete è proprio questa qui la proprietà ragazzi la vedete qui in foto sarebbe quel garage lì vicino a Vinewood infatti costa tantissimo anche per la location e comunque sono 50 posti queste qui sono le foto come vedete gli interni è possibile modificare l'interno del garage insomma come altri garage potete mettere anche i colori delle luci come vedete sono vari colori e queste qui ragazzi sono invece le luci che possono essere modificate sia laterali che superiori quindi veramente interessante bella mossa da Rockstar e invece quest'altra ragazzi è l'ultima luce che potete mettere anche quella quadrata quindi come vedete sono tre tipologie di luci diciamo quelle a led lunghe quelle lì insomma a lampadario tra virgolette e quest'altra a quadrato come vedete sui tetti quindi veramente interessantissimo e potete cambiarne anche il colore una clip come vedete del garage caricato la location come vedete è qui sulla mappa quindi se ci volete andare sul gioco la trovate insomma sta vicino ai clip tower è sulla stradona principale ci potete entrare tranquillamente ovviamente adesso non su GTA Online però se ve lo caricate su PC se sapete farlo insomma lo potete fare lo potete esplorare ma insomma non c'è nulla da vedere come vedete potrete entrare quando lo avrete acquistato ed ecco com'è il garage ragazzi sono 50 posti bene come vedete qui c'è addirittura una suite ovviamente qui non entrano 50 veicoli perché ragazzi sono praticamente vari piani come vedete sono 5 piani da 10 posti l'uno quindi sono tutti uguali ovviamente e niente potete riempire i vostri garage con i vostri veicoli considerando che con questo DLC sono 16 veicoli quindi insomma li potete comprare tutti senza problemi come vedete c'è anche il tetto che ovviamente sarà vostro quindi diciamo che è una specie di nuova proprietà extra che ha aggiunto Rockstar Games con questo Mega DLC ha detto a loro Mega insomma perché alla fine ha deluso un po' tutti però come vedete con questo garage da 2.700.000 avete praticamente l'ingresso avete un nuovo edificio avete 5 piani avete addirittura l'attico su Vinewood quindi non male fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti come al solito ragazzi garage diciamo in esclusiva perché non è ancora uscito vi ringrazio ancora tanto per la visione mi raccomando iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video